Iscriviti al nostro canale e metti un mi piace a questo video, grazie. Avvitatore elettrico, TECPO. Coppia massima 6 nanometri, più potente di altri sul mercato. 45 accessori, tra cui bit per driver 34 pezzi, prese 8 pezzi, cavo di ricarica USB, esagono un quarto di pollice, 6,35 mm, per una rapida sostituzione della punta del cacciavite. Un cacciavite elettrico leggero e facile da usare. È molto adatto per il fai-da-te. Batteria da 2000 mAh di qualità superiore, durata della batteria imbattibile. Può essere ricaricato con qualsiasi porta USB standard. La funzione di ricarica rapida consente di risparmiare tempo prezioso. Avvitatore elettrico Kiprim. La coppia massima è 10 nanometri e la coppia massima dell'elettrico è 4 nanometri. Può facilmente completare il lavoro di serraggio quotidiano, ideale anche per piccoli lavori di perforazione. Impugnatura morbida con due luci a LED, supporta il lavoro in ambienti bui, può essere adatto a diversi scenari di utilizzo. Avvitatore elettrico Soraco. Il cacciavite Cordless è alimentato da una batteria da 3,6 Volt, 1300 mAh per una potenza duratura e costante, e una lunga durata. La coppia massima di trasmissione del cacciavite è 6 nanometri, 0 a 180 RPM, ideale per avvitare e forare il legno. L'avvitatore a batteria è dotato di un mandrino elettromagnetico da 6,35 mm in grado di assorbire facilmente la punta del trapano e facilitare il cambio degli accessori. Dotato di LED di evidenziazione sicuro, adatto per ambienti bui o angoli con poca luce, le luci a LED possono aiutare in piccoli lavori di manutenzione. Quando viene premuto il piccolo pulsante nero, diversi colori possono indicare l'utilizzo della batteria dell'avvitatore, comodo per caricare il cacciavite in tempo. Avvitatore elettrico shaving fan Pratico e leggero, l'impugnatura del mini cacciavite è progettata ergonomicamente. Il manico in gomma ha una bella sensazione ed è facile da impugnare. Leggero, facile da usare, facile da stringere e svitare viti e dispositivi di fissaggio, può essere ampiamente utilizzato nell'assemblaggio di mobili, è il tuo braccio destro per la fabbricazione e la riparazione di mobili. L'avvitatore elettrico viene fornito con un cavo di ricarica USB, puoi caricare il piccolo avvitatore a batteria in qualsiasi momento. Avvitatore elettrico IKICA Gli accessori da 35 pezzi sono adatti per il fissaggio e l'allentamento di tutte le viti, è necessario utilizzare una punta da 25 mm con prolunga. L'albero ha una funzione autobloccante, che fornisce una coppia maggiore se usato manualmente. La batteria a litio da 2 mAh offre grande capacità e durata. Cavo micro USB, adatto a varie porte, come le uscite del computer, tempo di ricarica da 2 a 5 ore. Dotato di custodia, è facile da trasportare e riporre il cacciavite a batteria e gli accessori.